Un arcobaleno di colori, un'allegra babele di sensazioni. L'Aquila affida allo sport il suo messaggio di rinascita e di pace attraverso la cerimonia d'apertura dei campionati mondiali studenteschi di sci, organizzati dall'International School Sport Federation, dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Provinciale per l'Abruzzo. Il campanile della cattedrale di Piazza Duomo si è acceso per accogliere le 17 delegazioni di sciatori provenienti da molti paesi che discuteranno la settimana dei campionati che avranno termine il 27 febbraio prossimo. Lo slogan scelto per l'evento, i tuoi sci, le nostre ali, è stato il leitmotiv della cerimonia. Due vigili del fuoco sciatori scendendo dal cielo si sono trasformati in angeli per accogliere le delegazioni provenienti da Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Estonia, Francia, Germania, Russia, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia e ovviamente Italia. Studenti rappresentanti delle diverse delegazioni hanno depositato sul palco un oggetto simbolo della propria nazione. Angeli sciatori invece hanno consegnato la bandiera dell'AISF all'ultimo tedoforo, una squadra intera di atleti di Special Olympics, prima dell'accensione del tripode sul campanile della cattedrale. Desidero esprimere il mio orgoglio nel trovarmi nella città dell'Aquila, ha esordito il presidente mondiale AISF, Laurent Petrinka, in messaggio multilingue. Sono estremamente grato e favorevolmente impressionato dalla efficiente organizzazione che ha reso possibile la realizzazione dei campionati mondiali studenteschi di sci. Da oggi al via le gare di sci nordico ed alpino, dunque sulle piste di Campo Felice e Dovindoli, dove organizzatori e tecnici sono al lavoro da giorni per preparare il campo di gara. Le alte temperature e le scarse precipitazioni nevose non hanno impedito l'avvio della Kermess mondiale, che ha riacceso i riflettori sulla città dell'Aquila che, nonostante le mille difficoltà, si è dimostrata in grado di poter accogliere una manifestazione di alto livello.